Wake up on Virgin Radio, breakfast in rock, have a nice day rockers Buongiorno Ecco, tre ore in cui chiacchieriamo di tante cose, oggi abbiamo anche delle belle sorprese Quindi mi raccomando, state attenti, tanti concerti, tante novità musicali Soprattutto tanta tanta musica è quella di Virgin Radio Allora siamo pronti per iniziare, lo facciamo con il nostro rituale, tre cose da fare appena svegli La prima è salutare il regia, lo rifacciamo, quindi buongiorno Patrizio, è il momento per salutare La seconda è bere un caffè e la terza è come sempre iniziare con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock Partiamo con il Sun 41